Nella sua abitazione aveva una Bernardelli calibro 7,65 completa di caricatore illegalmente detenuta e la pistola ritrovata dai carabinieri nella casa di un architetto di Nole. La perquisizione, scattata a seguito di un'attività preventiva, rientra in una strategia più ampia su tutto il territorio della provincia di Torino, disposta dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Francesco Rizzo, per contrastare la detenzione legittima di armi. A seguito dell'intervento, l'uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mati per detenzione illegale d'arma a comune da sparo. Le indagini successive dovranno stabilire se la pistola sia stata utilizzata per commettere reati. Grazie per la visione!